Un sedicenne con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Penne per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti di una giovane di 17 anni. Sia la vittima che l'arrestato erano domiciliati in una comunità per minori di Penne. Le violenze, riferiscono i carabinieri coordinati dal capitano Massimiliano Di Pietro, risalgono all'estate scorsa fino al 20 settembre all'interno della struttura di accoglienza di Penne, dove i due erano domiciliati. Il giovane carismatico e di forte personalità avrebbe costretto la ragazza a più rapporti sessuali dietro minacce e percosse, attuando nei suoi confronti una quotidiana pressione psicologica. L'arrestato, dicono i militari, avrebbe attuato un vero e proprio controllo delle attività svolte giornalmente dalla ragazza. La vicenda è emersa con l'aiuto degli assistenti sociali responsabili del percorso rieducativo che viene svolto nell'ambito della comunità. Su disposizione del Tribunale dei minori dell'Aquila, il giovane arrestato è stato condotto nell'Istituto Penitenziario Minorile di Roma.